Abbiamo pensato che Confindustria potesse essere il primo collaboratore, la prima organizzazione con la quale fare un tratto di strada assieme. Per cui il 15 di gennaio abbiamo siglato un memorandum all'interno del quale Conovo da una parte e Confindustria dall'altra avrebbero collaborato con un programma di formazione della singola industria. In pratica come tenere bene uno stoccaggio rispettando la legge e le direttive comunitarie.